Ciao a tutti, io sono Irini, ho 23 anni e sono di un'isola greca. Adesso sto facendo il Corpo Europeo di Solidarietà qua a Padova con il progetto Giovani. Sono qua con un'altra ragazza che si chiama Andrea, è spagnola e facciamo la stessa cosa. Per esempio adesso stiamo organizzando tandem individuale di gruppi, sviluppiamo lavoratori culturali nelle scuole di Padova e nei prossimi mesi faremo anche altre cose molto interessanti. Questo è il primo di una serie di video in cui ti racconteremo la nostra storia italiana. Il primo video è sulla nostra prima impressione, anche se stiamo solo 5 settimane qua a Padova, mi sento che sono qua da sempre. È una città con molti giovani, è una città verde, sempre hai cose da fare e mi piace troppo. Per adesso tutto va benissimo anche nell'ufficio, con il nostro lavoro, tutti sono molto simpatici, tutto è molto ben organizzato e spero che nei prossimi mesi l'esperienza sarà ugualmente interessante e bella. Quello che mi piace di più è che abbiamo l'opportunità di esplorare una cultura molto importante e storica, la cultura italiana e la lingua italiana. Abbiamo imparato un sacco di nuove parole di grammatica e abbiamo studiato anche. Spero che i prossimi mesi saranno ugualmente interessanti, ma questo vi lo racconterò presto. Ci sentiamo, figlia volà!